A piedi nudi nel parco, dopo circa 50 anni dalla prima edizione cinematografica, ha raggiunto dal vivo il pubblico dell'Ea Padovani, che ha apprezzato questo grande classico della commedia americana del Novecento, scritta dal drammaturgo Neil Simon. Brillante, divertente e deliziosa, è la sensazione restituita allo spettatore, una passione travolgente tra i due protagonisti, interpretati da Vanessa Gravine e Stefano Artissunk, uniti a soli sei giorni dal loro matrimonio, affrontano la vita coniugale nella loro prima casa, un piccolo e spoglio appartamento all'ultimo piano di un vecchio palazzo senza ascensore. La scomoda sistemazione dei due sposini e la presenza nelle loro vite di altri tre straordinari personaggi, interpretati da Ludovica Modugno, Stefano De Bernardin e Federico Fioresi, fanno emergere le loro differenze caratteriali. Il pubblico dell'Ea Padovani ha assistito ad una narrazione delicata, ad una performance che non ha nulla da invidiare alla famosa interpretazione cinematografica. Una commedia ironica, brillante, dicevamo, ma anche molto intelligente perché è una commedia che riflette su quella che è un po' la difficoltà dell'uomo moderno, dell'uomo contemporaneo di rapportarsi con la realtà che lo circonda e anche con le difficoltà dei rapporti umani e soprattutto del rapporto di coppia. È una commedia però che ci porta a riflettere in positivo, nel senso che Neil Simon ci dice, ci insegna che attraverso ovviamente la fantasia, l'immaginazione, l'ironia e soprattutto un po' di follia si riesce a sopravvivere a tutto quello che, insomma, di complesso e di brutto, la vita ci può presentare ogni giorno. Sì, la commedia ha questa facilitazione di giocare molto col pubblico ma io credo in un altro che entri in empatia, sia che faccia ridere, sia che in qualche modo emozioni, sia che sia anche un dramma. Quindi è importante che ci sia teatro, tanto teatro e penso che sia l'unico appuntamento che ogni città, nella fattispecie qui in Montalto di Castro, l'unico appuntamento culturale che una città può avere è la stagione teatrale. Cioè è quell'appuntamento da cui il pubblico, le persone che vivono in una città o in un paese non possono prescindere. È un appuntamento culturale fisso, che loro sanno fin dall'inizio e penso che il teatro oggi sia importantissimo anche e soprattutto in questo periodo di crisi. Lo spettacolo dal vivo è l'unica cosa rimasta, diciamo, di comunicazione energetica anche con gli spettatori, qualcosa che non sia trasferita in video. In Italia è un po' spettacolo dal morto, nel senso che il teatro è trattato malissimo. I fondi che abbiamo noi per fare teatro complessivamente, tutta la nazione italiana per fare teatro dal vivo, teatri stabili, compagnie private, anche eroiche come questa di Stefano, corrisponde a quanto prende solo la comédie française in Francia. Quindi questo basta dire. E ogni anno ci tagliano, perché sono anni che tagliano il teatro. Quindi noi siamo dei sopravvissuti, dei panda, degli eroi che continuano a fare teatro perché riteniamo che questa comunicazione sia importante e anche perché del teatro non riusciamo a fare a meno, purtroppo. C'è qualche difficoltà? Sì, come però anche per altri autori? No, nel senso che la commedia si regge veramente molto bene in piedi da sé. È anche vero che la difficoltà intanto è portarla in un ambito che è fuori dall'ambito americano. Questa è una commedia molto presta, nel senso la seconda o la terza di Miss Simon. E le difficoltà sono state tutte superate, però la regia di Stefano è stata molto intelligente per quanto riguarda quello che del testo andava mantenuto e altrettanto intelligente per tutte. Ci sono delle inserzioni, non di testo, ci sono delle inserzioni registiche che rendono il testo ancora più diverso, insomma. Sì, peraltro c'è l'eredità del film a cui molta gente è affezionata e mi ricordo che da qualche parte ci dissero abbiamo visto il film, ci era piaciuto molto, l'abbiamo rivisto la sera stessa, ma voi siete più divertenti. E questo non per sbrodarci, però sicuramente è poi nello spettacolo del vivo. Quindi diciamo, ecco, è un sì e un no, un po' con tutte le difficoltà che ci sono a teatro. Però io voglio solo aggiungere questa cosa, che è un po' di giorni che me la medito e escluso il parlante, questo è uno spettacolo fatto da attori bravissimi. No, e non lo dico in senso di lode e di piageria, perché sinceramente io non so quanta gente va a teatro e di quanti attori bravissimi questa nazione può contare. Qui ci sono, ve lo posso assicurare, partner meravigliosi e attori proprio bravi. Il pubblico se ne accorge. Con questo breve ruolo, ma di grande soddisfazione, con un paio due volte. E' di grande successo. E' di grande successo, sì, perché diciamo che sono l'unico esterno dalle due coppie dell'azione, l'esterno che entra e che si trova, come dire, nel bel mezzo delle relazioni di coppia. E quindi è come un po' che il pubblico entrasse attraverso di me in questo piccolo appartamento dove la vita di coppia sta nascendo, si sta sviluppando.